Nata a Bologna, la campagna contro la sedentarietà a pilone di movimenti è diventata nazionale per noi. Anna Maria Cremonini. Penso che la salute passi da questo e che sono due anni che stiamo sul divano. Questa cosa ci rende molto isolati e quindi molto rabbiosi e un po' depressi. E quindi tutto quello che ti porta fuori di casa è un'occasione. L'invito ad alzarsi dal divano, uscire di casa, fare attività fisica arriva da Lodo Guenzi, testimonial del progetto Pillole di Movimento di WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. In questa scatolina che si trova da oggi in farmacia c'è un bugiardino speciale, coupon per frequentare gratuitamente per un mese piscine e palestre. Campagna, quella della WISP, per contrastare la sedentarietà, per promuovere l'attività fisica che previene e fa bene alla salute e all'umore e stili di vita sani e corretti. Questa iniziativa è rivolta a tutte le persone sedentarie che hanno voglia di rimettersi in movimento, di fare attività fisica e di farlo soprattutto in compagnia, insieme agli altri. Quindi è un progetto che fa nascere la voglia di ritornare in socialità. Il progetto Pillole di Movimento, nato a Bologna nel 2011, è diventato ora nazionale, con il contributo del Dipartimento dello Sport, realizzato grazie a una rete con house, le farmacie, e che ora coinvolgerà in Italia 235 comuni e 370 associazioni e società sportive. Ne saranno distribuite 480 mila confezioni. Questo progetto vuole mettere in moto l'intero paese attraverso lo strumento di Pillole di Movimento, anche attraverso la gratuità per sostenere anche le famiglie e i cittadini e le cittadine di ogni età.